Siamo a Medby di Monte Carlo, una fiera riservata ai buyer francesi di elettronica di consumo allo stand Wiko. Abbiamo trovato qualcosa che non vi avevamo ancora mostrato, il smartphone Wiko Wax anche con back cover colorati. Sono con me Massimo Morandici e Luca Figini. Ciao a tutti, sì abbiamo scoperto questa cosa qui a Monte Carlo, quasi per caso, anzi sicuramente per caso. Noi finora abbiamo visto il Wax in versione nera, ricordiamo che il Wax è lo smartphone di Wiko animato dal processore Nvidia Tegar 4i, quindi un quad core a 1,7 GHz, finora era nero, display 4,7 pollici, risoluzione HD quindi 1080x720p, fotocamera da 8 megapixel, ROM da 4GB e animato in questo caso da Android 4.3 ma già ci dicono che è in lavorazione la 4.4. Qui la novità è che appunto si trova in colore verde, ecco facciamoli un po' vedere, qui abbiamo il verde, il rosso, li sto prendendo tutti eh? Ancora il rosso, bianco, bianco, 5,4,7, 5,5,5. E' è classico, è Kingdom. Tutti telefoni che comunque saranno poi distribuiti sul mercato italiano. Queste tonalità, che poi tra l'altro mi faccio notare così, sono in terra francese, una piccola costruzione italiana, orgoglio italiano, Questi smartphone arriveranno e saranno ovviamente grazie ai colori anche dedicati a utenze più giovani, a clienti, acquirenti che hanno magari predilezione per un tocco di moda oltre che ad avere un telefono ad alta tecnologia e a prezzo aggressivo. Perfetto, allora ne aspettiamo in Italia e per il momento è tutto per Cellulari Magazine da Montecarlo, Massimo Morandi e Luca Figini.